Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo una serie di altre attività, per esempio abbiamo appena lanciato una nuova campagna di iniziativa per raccogliere iscrizioni con gadget, con nuove borse, con nuove spillette, con nuove magliette. Una di queste è scegli tu o il Vaticano, libera il sesso, la scienza, la vita, certidiritti.org. E quindi le magliette saranno disponibili sul sito? Le magliette sono disponibili sul sito, sono disponibili in tutti i punti dove ci sono militanti di certi diritti. C'è la nuova campagna che verrà lanciata a breve, dai corpo ai tuoi diritti. C'è una campagna molto curiosa che invito tutti a cercare, a seguire, ma non dico di più. C'è il rapporto sempre più consolidato che stiamo costruendo con ILGA Europe, abbiamo tradotto in italiano le mappe che ILGA ha prodotto per il 17 maggio e ne abbiamo curato insieme ad ILGA World, in questo caso l'edizione italiana che diffonderemo in questi giorni, sono appena arrivate per mostrare lo stato dei diritti delle persone LGBT in tutto il mondo, perché sappiamo che certi diritti ha una visione internazionale, infatti abbiamo un network internazionale che sta crescendo di giorno in giorno con molti partecipanti da molti paesi. Ci sono tanti paesi africani a partire dall'Uganda, ma molti altri, ci sono paesi sudamericani, ci sono gli Stati Uniti, il Canada, molti paesi asiatici, molti paesi europei, molti paesi mediterranei, in particolar modo Malta, l'Albania, Cipro, la Turchia, un network che per ora è di scambio di informazioni in modo da avere una visione il più globale possibile e avere possibilità di intervenire o comunque di costruire campagne politiche qualora sia necessario per incidere per quello che si può in tutte le parti del mondo a difesa dei diritti umani e a difesa dei diritti delle persone LGBT e poi abbiamo la nostra campagna di affermazione civile 2.0 che continua ad andare avanti. Di recente abbiamo scoperto per esempio il caso di questa circolare all'interno della Polizia che volendo equiparare le coppie non matrimoniali alle coppie matrimoniali nella concessione di una serie di vantaggi ha però introdotto esplicitamente una discriminazione ai danni delle coppie dello stesso sesso quindi dicendo che certi vantaggi per il passaggio di grado, di carriera eccetera sono estendibili ai partner conviventi e non solo ai coniugi ma a patto che i conviventi siano due persone di sesso diverso. Allora abbiamo fatto subito un esposto all'OSCAD e probabilmente la settimana prossima avremo questo incontro con l'OSCAD che è l'organo contro le discriminazioni all'interno delle forze di sicurezza l'Ordosservatorio contro le discriminazioni all'interno delle forze di pubblica sicurezza in Italia per cercare di risolvere questo problema quindi una forte azione di monitoraggio sulle cose, un tentativo di incidere sotto il profilo politico perché sappiamo che da pochi giorni è partita la discussione alla Camera su alcuni progetti di legge che riguardano appunto la regolamentazione delle unioni civili con l'esclusione però di due progetti di legge uno firma di Rita Bernardini e l'altro di Paola Concia che prevedono l'istituzione del matrimonio cioè l'accesso al matrimonio civile da parte delle persone dello stesso sesso e l'esclusione anche di una terza proposta di legge sempre a firma di Rita Bernardini che prevede una riforma complessiva del diritto di famiglia comprendendo non solo il matrimonio tra le persone dello stesso sesso non solo le unioni civili ma una serie di altre disposizioni come il divorzio breve, come la totale equiparazione tra figli naturali e figli legittimi come una serie di altre forme di regolamentazione del proprio amore della propria vita di coppia che sono ancora diverse e ancora più articolate delle semplici unioni civili o del semplice matrimonio civile quindi una riforma molto complessiva che francamente escludere da un dibattito come quello che si sta cercando di avviare alla Commissione Giustizia della Camera è assolutamente assurdo quindi noi attraverso Rita Bernardini stiamo facendo questa richiesta pressante per inserire anche queste tre proposte di legge all'interno del dibattito sulle altre otto riguardanti le unioni civili quindi insomma tanti sono i fronti aperti occorre l'aiuto di tutti che ci diano sostanza bisogna iscriversi praticamente iscrivendosi infatti iscrivendosi, iscrivetevi all'associazione anche questo si può fare molto facilmente va ad andare sul sito internet si può fare con Paypal, si può fare con la carta di credito si può fare con versamento postale, con conto corrente bancario in tutti i modi possibili andate sul sito, iscrivetevi l'iscrizione è di 50 euro o 25 euro per chi non ha reddito serve per dare forza alla nostra associazione senza il vostro contributo non andiamo da nessuna parte perché questa è un'associazione basata esclusivamente su lavoro volontario che si finanzia esclusivamente con l'aiuto degli iscritti che appunto possono contribuire alla vita dell'associazione con la loro quota di iscrizione e l'appello che facciamo sempre alle coppie contattateci perché affermazione civile va avanti si tratta di andare alla Corte Europea dei diritti dell'uomo alla Corte di giustizia europea ma ancora nei tribunali nazionali per sottolineare, per avviare cause su singoli diritti denegati alle coppie conviventi dello stesso sesso o di sesso diverso quindi qualora voi siate una coppia dello stesso sesso o anche di sesso diverso che vivete una discriminazione sulla vostra pelle per la vostra condizione di coppia convivente o non matrimoniale in generale contattateci perché noi abbiamo tutti gli strumenti per avviare delle cause pilota che non solo potrebbero risolvere il vostro problema di discriminazione ma potrebbero garantire a tutti una maggiore eguaglianza sotto il profilo dei diritti e contribuire poi alla battaglia principale che è quella di certi diritti e cioè di implementare di garantire il pieno diritto di uguaglianza e di cittadinanza a tutti i cittadini italiani a prescindere dal loro orientamento sessuale che si declina attraverso il pieno accesso per tutti all'istituto del matrimonio civile Ti faccio un'altra domanda che bene o male ho visto un po' in questi giorni essere come al solito elusa dai mezzi stampa il Movimento 5 Stelle con un suo esponente ha fatto delle dichiarazioni sulle coppie omosessuali praticamente ha detto che non c'è apertura da nessuna parte alle coppie omosessuali da parte del Movimento 5 Stelle quello di Beppe Grillo perché se no bisognerebbe dare la possibilità di sposarsi anche a un uomo con il suo cane ha fatto delle solite affermazioni squallide che magari ci si aspetta dal giovanardi di turno tu cosa pensi invece di questi nuovi partiti che stanno spuntando e che magari invece di essere innovativi si risolvono poi con le solite sparate Beh, guarda secondo me la migliore risposta a queste sparate è l'oblio vengano dimenticati il più presto possibile questi esponenti di partito che poi spesso e volentieri rappresentano solo loro stessi che ci raccontano le loro opinioni voglio dire che dicono di loro quello che insomma quello che appunto affermano cioè paragonare l'unione omosessuale l'unione ad un rapporto zoofilo è di una volgarità paurosa se Grillo ritiene di non continuare a non prendere una posizione ufficiale su questi temi e lasciare che ciascuno possa dire queste aberrazioni all'interno del suo movimento prendiamo atto e evidentemente i gay decideranno di conseguenza quando saranno nella cabina elettorale voglio dire sarebbe bello questo però che i gay avessero la possibilità e la consapevolezza che molte volte non hanno la consapevolezza che hanno potere di poter decidere e quindi magari non vanno nemmeno a votare non si interessano attivamente della politica perché è la politica poi alla fine che cambia le cose con le leggi l'associazione di certi diritti è l'emblema della politica che è positiva che cerca di scardinare quelle norme quelle consuetudini credo io sì 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 assolutamente assolutamente questo rischia di essere un problema dopodiché noi cerchiamo di coinvolgere di alimentare il dibattito un dibattito serio un dibattito corroborato da azioni politiche perché noi facciamo più che tanta aria fritta attività politica concreta dopodiché è un po' nella storia radicale quella di avere tanti sostenitori tante persone che ci dicono che ci vogliono bene che ci stimano eccetera e poi avere percentuali invece alle urne se non da prefisso telefonico poco più quando i cittadini italiani capiranno che forse è il caso di invece come dice spesso Eman Volino volerci un po' meno bene e votarci un pochettino di più magari le cose davvero cambieranno in Italia perché lo dimostra la storia è cambiato qualcosa nei diritti LGBT in Italia negli ultimi 20, 30, 40 anni sotto il profilo proprio politico, giuridico non mi pare e i partiti che sono stati al potere lo sappiamo quali sono e di certo i radicali non hanno mai avuto posizioni di potere rilevanti e quell'unica volta che l'hanno avuto nel governo Prodi con Eman Bonino Eman Bonino ha abbandonato il Consiglio dei Ministri per difendere i diritti delle coppie non matrimoniali insomma un po' più voti e un po' meno affetto forse non ci farebbero male come italiani e non come radicali perché quello che conta sono i diritti per tutti ma tornando alla questione delle espressioni omofobe di certi esponenti del Movimento 5 Stelle come della destra, della sinistra insomma le espressioni omofobe non ce le fanno mancare proprio nessuno devo dire l'oblio è la migliore risposta ma loro devono sapere che si prendono la responsabilità molto grave di alimentare un clima omofobo in Italia che ormai sta diventando intollerante e che produce mostri come le aggressioni che sono state fatte in questi giorni a Roma ai danni di varie persone due ragazze una persona trans un giovane ragazzo omosessuale e culminate con l'aggressione violenta a Vido Allegrezza che era un organizzatore che è un organizzatore del Pride che è stato aggredito a calci, pugni e con pietre riportando avendo 30 giorni di prognosi e fratture a tre costole un viso e una testa completamente tumefatti e sfigurati dall'aggressione sono situazioni ormai inaccettabili in un paese che si dice civile nel 2012 e che da qui una notizia in anteprima hanno suscitato anche la presa di posizione ferma di Il Gay Europe che ha deciso di scrivere a Mario Monti a Gianfranco Fini a Schifani e all'Oscad per chiedere ufficialmente da parte appunto della branca europea dell'organizzazione mondiale delle gay delle lesbiche delle persone transessuali bisessuali e interessuali che l'Italia finalmente rispetti i trattati europei rispetti la convenzione europea dei diritti dell'uomo che ha siglato e chieda e intervenga con una legislazione contro l'omofobia contro i crimini d'odio e contro l'hate speech estendendo la legge Mancino anche ai crimini basati sull'omofobia sul pregiudizio omofobico perché è inaccettabile che in Italia vi siano delle discriminazioni tra fattori di discriminazione cioè l'etnia la religione la nazionalità sono maggiormente tutelati nel codice penale italiano e invece i crimini d'odio contro le persone omosessuali non lo sono questo è quello che chiede Ilga specifico e poi Ilga chiede anche che chiede all'Oscad che vengano monitorati come Oscar già fa tutte le aggressioni omofobe che avvengono in Italia ma che i dati di questi monitoraggi vengano resi pienamente accessibili e pubblici in modo da poter avere consapevolezza della situazione alimentare il dibattito e sostenere un percorso di civiltà e di rispetto dei trattati degli impegni internazionali che l'Italia ha preso perché è impossibile continuare a dire che l'Italia deve rimanere in Europa deve come dire elevarsi gli standard europei per quanto riguarda le questioni economiche e ignorare completamente il fatto che l'Italia è completamente al di fuori degli standard minimi europei di rispetto dei diritti umani per quanto riguarda i diritti delle persone LGBT oltre che mille altri come quelli dei carcerati che noi radicali conosciamo bene quindi è bene che un governo che ha fatto dell'europeismo il suo bigliettino da visita si attivi non solo sulle questioni economiche ma anche sulle questioni dei diritti umani e dei diritti civili e forse è il caso di ricordare a Mario Monti e a tutto il governo italiano l'esempio della signora Banda che è la prima ministro il presidente del consiglio del Malawi che ha questa settimana depenalizzato l'omosessualità rendendo il Malawi l'unico altro paese africano a depenalizzare l'omosessualità dopo il Sudafrica quindi il primo in anni in quasi 20 anni ad introdurre una normativa di questo tipo e che ha dichiarato che la povertà si combatte anche e soprattutto aumentando la democrazia e facendo leggi pienamente democratiche di rispetto dei diritti civili ecco questo è un insegnamento fondamentale è un momento di crisi economica come questa che riforme a vantaggio dei diritti civili del pieno diritto di uguaglianza della piena inclusione di tutti i cittadini all'interno dell'area della cittadinanza dei diritti eccetera può aiutare a superare a sconfiggere la povertà come dice la signora Banda o a superare un momento di crisi economica che sta affliggendo tutti io volevo farti un'altra domanda alla luce di quello che stai dicendo molti dicono sai il gay pride non serve manifestare non serve e invece no quest'anno è sicuramente stato diverso dagli altri anni a causa purtroppo del terremoto il pride tra l'altro ha devoluto il ricavato dei contributi alle popolazioni terremotate quindi anche i gay che se ne dica si sono mobilitati per stare vicino ai terremotati e sicuramente tra i terremotati ci saranno stati anche dei gay diciamo pure perché è necessario manifestare ai gay pride che ancora ci siano i gay pride sì beh il gay pride è un momento ormai di rituale io tendenzialmente paragono il gay pride al primo maggio al 25 aprile anche perché no alla festa della repubblica cioè a tutte quelle a tutti quei momenti che una comunità si sceglie autonomamente di dare per ricordare a se stessa la comunità LGBT in questo caso ma anche la più ampia comunità italiana per ricordare a se stessa chi è dove va che cosa cerca di fare quindi i pride sono un momento importante per la comunità LGBT sia che siano nazionali sia che siano locali e ormai vediamo che i pride locali sono diffusi in gran parte d'Italia c'è Palermo c'è Salerno nel sud c'è Roma c'è Milano c'è Torino c'è Cagliari Sassari che fa un evento simile insomma sono varie le realtà che stanno costituendo il pride c'è stato il pride nazionale a Bologna quest'anno molto importante io credo che la scelta degli organizzatori di fare un pride più sobrio in solidarietà e con i terremotati sia stata una scelta molto felice che è stata tra l'altro apprezzata anche dai giornali del centrodestra che addirittura hanno fatto i complimenti alla comunità LGBT paragonandola al Presidente della Repubblica che invece il 2 giugno ha deciso di mantenere la parata militare e il ricevimento per il 2 giugno dal mio punto di vista devo dire che non è che mi scandalizzi più di tanto perché le spese erano già state fatte quindi non si può francamente pensare di sospendere una cosa che è già stata pagata ma al di là di questo i giornali di centrodestra hanno riconosciuto il valore della scelta fatta dagli organizzatori del pride che è stata una scelta di solidarietà di sobrietà come hanno detto i giornali di centrodestra ebbene è stato forse un passo importante per includere il pride non solo tra gli eventi rituali della comunità LGBT ma per rendere il pride un appuntamento nazionale nazionale popolare se vogliamo importante quindi per fare un passo avanti alla nazionalizzazione della comunità LGBT io ricordo sempre che avendo vissuto per 14 mesi in Australia durante il periodo in cui si celebravano adesso non mi ricordo più qual era la celebrazione comunque un'importante celebrazione nazionale credo che fossero i cent'anni centocinquant'anni dalla indipendenza ecco che tra i momenti che venivano ricordati fondamentali nella crescita del paese dall'indipendenza alla piena autonomia alla crescita civile del paese c'era sempre il Mardi Gras come momento che è il pride australiano e tutto lo sviluppo di emancipazione della comunità LGBT che era simboleggiato dal Mardi Gras ebbene in Italia durante le celebrazioni per i centocinquant'anni non c'è stato un solo riferimento alla comunità LGBT italiana questa la dice lunga sul percorso che ancora dobbiamo fare come gay lesbiche bisex italiani per essere per avere accesso non solo ai diritti ma anche come dire al riconoscimento di appartenenza alla comunità nazionale più ampia gli storici parlano di nazionalizzazione delle masse noi abbiamo qui un problema di nazionalizzazione della comunità LGBT ebbene secondo me questo pride di Bologna con la scelta che è stata fatta dagli organizzatori e per via della tragica concomitanza con il terremoto può giocare e aver giocato un ruolo importante in questa direzione io ringrazio Iuri Guayana segretario dell'associazione radicale ai certi diritti però prima di chiudere vorrei far vedere nuovamente i due libri certi diritti che le coppie conviventi non sanno di avere edito da stampa alternativa e poi l'altro libro molto importante e che praticamente spiega la sentenza della corte costituzionale scritto proprio da te Iuri Guayana e che comunque potete trovare entrambi sul sito dell'associazione radicale certi diritti che è www.certidiritti.org o .it tutte e due ok perfetto o nelle librerie grazie ancora Iuri speriamo che questi libri magari un domani possano essere reperiti anche nelle biblioteche delle scuole beh per esempio a Milano entrambi no in realtà queste sono le certi diritti che le coppie non sanno di avere non ancora perché non era ancora uscito però questo è già stato dato dall'associazione radicale certi diritti a tutte le biblioteche rionali della città in seguito ad un'azione che è stata fatta per difendere un altro libricino non di certi diritti la storia del piccolo uovo della casa di Triccello Stampatello che è stato amminacciato di essere bruciato in piazza di dover essere ritirato dalle biblioteche con mozioni nei consigli circoscrizionali nel consiglio comunale prese di posizione assurde noi abbiamo lanciato una sottoscrizione pubblica come certi diritti che è andata molto molto bene e che ci ha permesso di regalare a tutte le biblioteche rionali di Milano non solo piccolo uovo ma anche un altro libro dell'agenzia Stampatello per dare a tutte le famiglie omogenitoriali la possibilità di avere anche degli strumenti per accompagnare i loro bambini nel mondo con la loro prospettiva con la loro specificità e in più anche questo libro che quindi adesso è reperibile in tutte le librerie ricordiamo ancora una volta i nostri gadget le nostre spillette le nostre magliette le nostre cartoline le mappe di ILGA e tutte quelle cose che fanno informazione ma che ci permettono anche di raccogliere contributi che sono essenziali per sopravvivere iscrivetevi sul sito di certidiritti .org o .it e le coppie le coppie che vengano a contattarci grazie ancora Iuri Guayana e speriamo che tanti si iscrivano e a presto